Personali rivolte alla provincia di Zegna, gli stipendi ancora non vengono pagati e l'impressione è che tarderanno ancora. Le responsabilità sarebbero della banca che è in gestione il servizio di tesoreria e che non sarebbe disposta ad effettuare ulteriori anticipazioni. Il malcontento è venuto fuori nel corso della seduta convocata per l'approvazione del rediconto consultivo. Perché questo stato di tensione ma soprattutto perché questo ritardo? Noi non sappiamo perché, vogliamo delle spiegazioni da parte dell'amministrazione, dagli amministratori, dai dirigenti soprattutto, perché lo stipendo deve essere percepito il 24 del mese e fino ad oggi niente, le promesse sono state fatte, le prenderemo però non ne siamo certi e probabilmente se non ci stanno le rimesse dallo Stato che dovrebbero pervenire a giugno, noi staremo due mesi senza nessuna retribuzione e ci stanno le famiglie che vivono con solo stipendi. Non so come dovranno fare pure a sostenersi, non lo so. Noi abbiamo chiesto educatamente che ci vengano date innanzitutto delle spiegazioni di questo fatto, di questa situazione e come dire stiamo avendo e stiamo in attesa di avere un incontro con il presidente dopo che sia i dirigenti sia gli amministratori con un incontro con il responsabile della Corte dei Conti per vedere se la rinegoziazione con l'Istituto Bancardio che ci paga lo stipendio, se è congruo quando hanno concordato, se questo viene accettato, se è legittimo o meno. Questa situazione non è soltanto per la provincia di Senni ma per altri endi locali. Sì, siamo pazienti come diceva la collega di Pia, vogliamo essere pazienti se si tratta di qualche giorno, ma non di mesi e questo per durare di cosa. Per quanto riguarda gli stipendi il problema è che siamo in anticipazione di Cassana. Noi avanziamo dall'amministrazione centrale dello Stato ancora 3 milioni e 9 di rimesse del 2013 e che solitamente entro aprile dovevano essere già accreditati a questo ente, ancora non sono state accreditate per ritardi che l'amministrazione dello Stato sta portando avanti. e per cui abbiamo contestualmente, almeno qualche mese fa, fatto la richiesta alla banca dell'anticipazione di Cassa per quello che è la somma, che la legge ci consente, vuole dire i 3 dodicesimi del bilancio delle rimesse dell'anno precedente, per cui 3 milioni e 2, e quindi siamo ancora in anticipazione di Cassa, la banca non riesce ancora a coprire i 3 milioni e 2 praticamente, siamo circa la metà e questo non... Ecco, ma perché questa banca non riesce a coprire Nazzuto? Ma credo che adesso, voglio dire, c'è un problema di fondo, gli interessi sulle anticipazioni. Il contratto stipulato con la banca, voglio dire, ha consentito alla banca anche di assicurarsi, quindi anche la tesoreria e quindi di vincere il bando che abbiamo fatto, offrendo un zero interessi sulle anticipazioni di Cassa, facendo leva anche su quelle che erano praticamente le anticipazioni degli anni precedenti, che la provincia non aveva mai avuto. Ora, in questo istante, in questi momenti di massima difficoltà dell'amministrazione pubblica, il ricorso all'anticipazione c'è stata e la banca non riesce a far fronte a zero interessi, per cui c'è una richiesta anche dalla banca di rivedere questa data.